Quattro che significa? Il punto del quattro? Lasciati ispirare. Lasciati ispirare, perfetto, lasciati ispirare. E come cavolo fai? Cioè tu esci la mattina alle sette e mezzo, una nebbia pazzesca, umido, freddo, l'autobus che passa, la cosa di nafta, ti butta fuori il suo fumo nero mentre aspetti sul marciapiedi, prende l'auto che non parte, cioè mi spieghi come cacchio fai ispirarti. Magari non so, vivete tutti in posti meravigliosi, in campagna, in mare, eccetera, però anche lì, anche nei posti meravigliosi vi capiterà di non trovare fonti di ispirazione. Io dico che non è così semplice a volte trovare fonti di ispirazione. Beh, calma e gesso, come si dice, perché abbiamo la soluzione e la soluzione è questa. Quindi entro all'interno di Beyoncé e sono qua, dentro Beyoncé. Voi trovate i disegnatori, illustratori, creativi, ecco diciamo così, creativi. I creativi di tutto il mondo, di tutti i paesi del mondo, che realizzano le loro opere, creano i loro progetti, espongono le loro idee e lo fanno attraverso questo social. Lo fanno attraverso questo social che è il social per eccellenza dei creativi di tutto il mondo. Ci sono tutti questi. E come si fa a farsi ispirare? Beh, per esempio, diciamo che stavamo parlando della bellezza, vedete, della bellezza che è, lo stiamo dicendo prima, no? Che era una strada, una strada panoramica o un'autostrada. Quindi proviamo a cercare, proviamo a cercare Freeway qui e vediamo se troviamo delle rappresentazioni che possiamo utilizzare, per esempio, perché stiamo organizzando dei contenuti su questo tema e quindi vogliamo farci ispirare o addirittura utilizzare una grafica che noi non saremmo in grado di creare. Allora non facciamo la ricerca attraverso Google Immagini. Google Immagini lo prendiamo e lo buttiamo nel cestino. E invece, d'ora in poi, ci rivolgiamo a Beans. Però vogliamo restringere il campo di questa ricerca. Quindi scegliamo la selezione strumenti e cerchiamo Illustrator, Adobe Illustrator. Perché qui bisogna avere un minimo di conoscenza. Diciamo, Photoshop è l'applicazione che serve per disegnare e per elaborare le fotografie, ma anche per il disegno, attenzione, disegno pittorico, Illustrator invece per il disegno grafico. Quindi io voglio una rappresentazione invece grafica. Eccola qua. Guardate cosa trovo. Trovo questa immagine. Ve la ricordate? È quella che ho utilizzato nel mio blocco degli appunti, è quella di prima. Quindi attenzione adesso che cosa faccio. Qui è un illustratore che ha illustrato la città di Houston in un modo particolare. Bene, vediamo che cosa fa questo illustratore. Mi sembra molto interessante. Perché? Perché non voglio rappresentare l'autostrada in un modo proprio brutto. Perché anche l'autostrada può avere degli aspetti belli, però non è una strada panoramica. Quindi mi basta che ci sia la differenza tra strada panoramica e autostrada. Quindi questa immagine può andare molto bene, ma intanto scorro anche le altre. Beh, certo che in certe condizioni anche una città o un'autostrada possono avere il loro fascino. Ma è un fascino limitato che dura poco nel tempo. Mentre una strada panoramica lo è, per definizione rimane lì, qui è legato a una serie di condizioni, di variabili. Però mi piace questo illustratore. A voi piace? A me piace. E poi cosa faccio? Qui, nel momento in cui scrivo mi piace, scelgo anche salva, cosa che ho già fatto. Cioè ho salvato questa immagine dove? Nella mia mood board. La mood board, cioè una lavagna di mood, di ambientazione, di sensazione, veramente di ispirazione. E quindi l'ho salvata qua, in un'area che ho chiamato didattica. E poi lo seguo, benissimo. E poi vado qui sotto e scopro che si chiama Luis Ramirez. Ehi Ramirez, prima di conoscerti e sapere che cosa fai, cliccando qui, sai che cosa faccio? Io qui sotto scriverò un messaggio. Però non lo scrivo adesso, lo scriverò domani. Quando registrerò il webinar, cioè quando la registrazione del webinar sarà pubblica, io scriverò un messaggio a Ramirez. E io, Ramirez, ho utilizzato una tua immagine in questo webinar per i miei colleghi. Si trova al minuto tal dei tali. Lo voglio informare di come ho utilizzato questa immagine. Ma la domanda è, la posso utilizzare in che modo? Beh, vediamo, scopriamolo insieme. Andiamo qui sotto, proprio sotto, 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 sotto. Qui abbiamo la rappresentazione del copyright. Che tipo di copyright offre Ramirez? Ramirez offre questo copyright, cioè attribuzione non commerciale e non opere derivate. Cosa ci dice Ramirez? Ramirez ci dice, puoi usare tutte queste immagini qui sopra. Però, uno, non le puoi vendere. Due, non le puoi modificare. Cioè, voglio dire, non posso prendere una parte, cambiare qui, inserire. Non lo posso fare. Posso prendere l'immagine così com'è. Non la posso modificare. La posso utilizzare come sfondo, posso aggiungere magari dei personaggi sopra, ma non posso modificare niente di tutto questo. Beh, grazie Ramirez, sei un grande. Io utilizzo la tua immagine, la utilizzerò e ti scriverò. Ecco quello che fa Ramirez. Gli è piaciuta questa immagine anche a lui, infatti l'ha messa come profilo. Ma è venuta particolarmente bene, guardate, è difficile, eh? Ci vuole grande pazienza a disegnare una cosa così. Quindi grazie Ramirez per averlo fatto per noi. E qui abbiamo i lavori di Ramirez. Beh, molto interessante questo, direi, molto originale. Perché non andarlo a vedere? Beh, bello. Sembra quasi una derivazione della classica pop art anni 50-60. Anzi, sicuramente sarà un richiamo. Così. Potremmo anche questo, potremmo apprezzarlo, potremmo anche salvarlo. In questo caso però storytelling, perché può darsi che mi serva per farci un lavoro. Vediamo quali sono i diritti. I diritti sono attribuzione non commerciale e un'opera derivata. La Ramirez è un grande, ci dà la possibilità di utilizzare quello che lui produce. Questa è un'opera derivata. Questa è un'opera derivata.